Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Tia ed oggi siamo in questo video molto rapido che non penso che sia così tanto rapido per avvisarvi che alle 19 ragazzi di oggi ci sarà una live natalizia ovviamente non so se riuscirò, aspetta che ho distrutto un attimo, guardaci ok, non penso che riuscirò a trovare il beretto di Natale da mettermi sopra come nell'altra live natalizia che abbiamo fatto l'altro anno ma sarà comunque natalizia per cui ragazzi, in questa live l'abbiamo, cioè io l'ho organizzata un po' meglio allora abbiamo la prima parte in cui ci sono solamente io, la seconda parte in cui ci siamo io e voi la terza parte in cui ci siamo io e voi e gli altri ragazzi quindi, inizialmente io vi racconterò un paio di robe molto intriganti dopo leggerò i vostri commenti così facciamo un live di risposta ai commenti ragazzi che è un video che non faccio da tantissimo tempo e alla fine ho pensato che si potrebbe fare una live di risposta ai commenti ragazzi mi pare un'ottima idea e invece dopo, quando arriveranno anche gli altri ovviamente verrà fuori un casino come in ogni live ragazzi come è giusto che sia inoltre, se osservate questo pacco è un pacco ragazzi cioè non è esattamente un pacco, è tipo una busta adesso e quel pacco verrà aperto all'inizio della live insomma passeranno 10 minuti circa di assestamento per vedere come va e dopo aprirò sto pacco ragazzi perché è un pacco che mi è arrivato proprio per il mio compleanno infatti non so se ve lo ricordavate ragazzi oggi è il mio compleanno auguri a me, grazie mille, di nulla vecchio quindi quel pacco verrà aperto nella live il no, non lo dico neanche perché dopo viene fuori un casino incredibile su questo argomento e alle 4 oggi dovrei registrare anche un altro episodio di bordelli su Gmod con degli ospiti speciali ragazzi quindi restate in linea inoltre adesso devo ancora terminare lo speciale di Natale che volevo farlo uscire oggi ma non penso che ci riesco per cui vedo se riesco a farlo o uscire stasera dopo la live oppure domani a sto punto non so dirvi ragazzi ma quindi questo era tutto quello che vi dovevo dire riguardo alla live che faremo oggi cercate di non mancare ho fatto questo video perché so per certo che se faccio un video la gente lo vede se lo segna da qualche parte magari cerca di restare libera anche se il 24 è un giorno in cui c'è un casino incredibile ragazzi di solito poi non so se riuscite a liberarvi verso le 19 dalle 19 inizierà la live e continuerà fino a orario indefinito ragazzi così magari pensavo di farlo andare anche oltre mezzanotte così di far così vi potrò fare anche gli auguri di Natale direttamente nella live quindi ragazzi questo era tutto quello che devo fare per questo video e adesso con le vacanze ovviamente ci saranno un bordello e mezzo di video che verranno fuori anche se devo un po' vedere che gioco portare sono tanti devo fare ancora Super 5 Nights at Freddy's devo finire Sister Location devo fare la roba di Ennard del minigame del gelato poi cos'altro resta poi devo fare stanno per aggiornare The Joy of Creation ragazzi poi Sinister Turmoil non ve lo dimenticate che non è stato aggiornato ma ci stanno ancora lavorando hanno aggiunto Rat non so se avete visto altre robe e niente magari inizierà anche qualche nuova serie no 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 invece no devo portare The Binding of Isaac devo ricordarmi The Binding of Isaac quindi ragazzi questo era tutto quello che dovevo dirvi noi ci vediamo nella live The Binding of Isaac è stato un po' di più il è stato un po' di più